Sì, è importantissimo per noi, siamo tutti felici per questa vittoria e per questo campionato. Diego Negro mancava, ci mancava la tua intervista perché è stata la sorpresa in assoluto di questo Teramo che ha scelto di mandare un under tra i pali e ha avuto ragione, un grosso campionato il tuo, un grande campionato il tuo. Sì, sono contento di questa scelta che ha avuto la società, sono contento di comandare la stagione, si è concluso in bellezza, noi stiamo partiti dicendo che volevamo vincere e abbiamo esaltato il sogno dei tifosi. Sì, sono contento per questo. La difesa mi è battuta. Siamo contenti soprattutto per questo, perché è sempre una soddisfazione di essere la prima difesa in classifica con record di imbattibilità. Il prossimo anno Negro ancora con il Teramo? Spero di sì. Compa, lo sai che ti ha famo tu, ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Paccasano combata po, gli mancazza, è bello non è. Sì, è bello non è.